Ospedale Vecchio di Asiago, sono arrivati i primi profughi dall'Ucraina che saranno ospitati temporaneamente all'ex nosocomio dell'Altopiano. In attesa di trovare una sistemazione più consona, al momento sono 80 le persone accolte, di cui 47 bambini. Si tratta appunto di persone che hanno bisogno di assistenza e che comunque arrivano da una storia vissuta di grande prostrazione, perché anche il viaggio, che dura due giorni, è pesante. Il comune di Asiago ha dato subito piena disponibilità e il sindaco Roberto Rigoni Stern approfitta per sottolineare un parallelismo storico in tempo di guerre tra il popolo dell'Altopiano e il popolo ucraino. Noi abbiamo dimostrato un'apertura verso questa iniziativa della Regione Veneto, che è stata quella di utilizzare i locali del vecchio ospedale, anche memori di una storia nostra che ci ha contraddistinti durante il primo conflitto mondiale, cioè il profugato che è stato vissuto dai nostri nonni. Perché siamo consapevoli anche per queste storie che ci sono state tramandate, della grande sofferenza, della grande tristezza che hanno nel cuore queste donne e questi bambini soprattutto, che hanno lasciato i loro uomini a combattere per la loro patria. Quindi si tratta veramente di un gesto umanitario e le nostre associazioni di volontariato sono vicine anche ad altre famiglie che stanno giungendo sull'Altopiano, fornendo tutta quell'assistenza che si rende necessaria per poter supportarle in questo periodo così tragico della loro vita.